Buona domenica a tutti. Oggi, 10 febbraio, è la giornata del ricordo che, grazie a una legge evoluta dalla destra politica, è stata dedicata alla memoria degli italiani uccisi dai comunisti iugoslavi, ma anche italiani, nelle foibe sul confino orientale d'Italia ed è dedicata anche alle centinaia di migliaia di italiani esiliati, cacciati, costretti all'esodo dall'Istria, dal fiume della Dalmazia e da alcune zone della Venezia Giulia. Ieri ne ho parlato qualche attimo con il mio amico Giampaolo Panza, uno storico, un giornalista importante, perché mi sono complimentato con lui per il suo ultimo libro, provocatoriamente intitolato Quel fascista di Panza. Racconta la storia dei suoi libri che hanno raccontato le violenze dei comunisti italiani nel triangolo della morte, ma Panza conosce bene anche la storia del confine orientale. Sono libri, sì, di Battista Di Maio, voi non avete le librerie, io ne sono pieno, voi non avete questo problema, i libri non sapete cosa siano. E Giampaolo Panza scrisse anni fa, tra i suoi tanti libri che qui abbiamo tutti quanti gelosamente costruiti dopo averli studiati e letti, parlò dei prigionieri italiani nelle carceri della ex Jugoslavia, comunisti italiani non abbastanza comunisti e quindi uccisi nella ex Jugoslavia anche loro. Oggi, in questo giorno, noi vogliamo ricordare quella tragedia, voglio ringraziare ancora una volta l'editore, il produttore di quel film, Rosso Istria, che ho molto sostenuto e che io ho chiesto che la Rai trasmettesse in prima serata su Rai 3. Senza un intervento anche abbastanza brusco, quel film sarebbe finito su Rai Movie, racconteremo la verità anche a chi si prende meriti che non ha. E quel film ha avuto circa un milione di spettatori, dovrà essere ripetuto e riproposto. Ma voglio anche dire che c'è ancora tanta volontà di censurare. Ieri Mattarella con coraggio al Quirinale, riportando lì la giornata della memoria, la giornata del ricordo, ha voluto dire che non ci sono negazionismi ammissibili e che quella è una ferita che appartiene a tutta la comunità nazionale e quindi il giorno del ricordo appartiene a tutti. Però ci sono ancora forme di censura. Oggi il Corriere della Sera, nell'edizione cartacea, non dedica mezza riga al discorso di Mattarella al Quirinale. Vergogna, direttore, non basta confinare ieri online qualche cosa. Non ne avete parlato. C'è una sorta di rimozione. Poi oggi Pietro Grasso, già Presidente del Senato, in un tweet dice di ricordare gli italiani che nel 1947 furono costretti all'Esodo e gettati nelle foibbe. Presidente Grasso, uno che ha avuto la sua storia così luminosa e piena di incarichi prestigiosi, non può non sapere che la tragedia delle foibbe partì nel 1943, che poi Tito occupò nel maggio del 1945, Trieste seminando morte e violenza. L'Esodo era già cominciato di fatto allora e proseguì dopo, ma le foibbe sono del 1943, non del 1947. Ma forse lei, Presidente Grasso, che ha già confuso articoli del regolamento del Senato e procure con tribunali dei ministri, si vuole iscrivere al partito di Di Maio quello che pensa che Matera stia in Puglia e che pensa a tante altre cose. Attenzione, l'ignoranza e la censura non sono ammesse. Onore ai martiri delle foibbe e un ricordo a tutti gli italiani dell'Esodo. Con loro questa mattina ho deposto al quartiere Giuliano d'Almara di Roma una corona d'alloro. Ho sostenuto quel film rossoistia, continuerò a sostenere la loro storia e la loro vita.